L'applicazione Immuni segnala eventuali contatti con persone positive al Covid-19. In questo modo aiuta ad evitare la diffusione di nuovi focolai. Immuni rispetta la privacy perché usa un sistema di tracciamento totalmente anonimo. L'app non registra nessun dato che permetta di risalire all'identità di chi le usa. Circa Immuni su App Store o Google Play e scaricala subito. Scarica Immuni. Aiuta te stesso, la tua famiglia e il tuo paese. Il Covid ci ha messo in grande difficoltà, ma nonostante le restrizioni siamo qui con l'entusiasmo di sempre per presentarvi la nuova collezione autunno e inverno. Nei nostri ampi locali perfettamente sanificati, ambiente ed abiti con la luce ultravioletta, Rita Severina abbigliamento, Via Tenente Carella, Rocella Ionica, veste ancora l'uomo e la donna. Dal casual al classico, con i nostri brand che hanno da sempre contraddistinto la nostra storia, Levis, Trussardi Jeans, Marella, Surcana, Linea 5, Gaia Life, Sanremo, Ingram e tanto altro, Rita Severino abbigliamento, Via Tenente Carella, Rocella Ionica. La storia continua. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa, ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. Dai laboratori e in te Biochemistry Evolution, nel rispetto della qualità e della purezza nasce NovaVis. Rafforza le tue difese immunitarie, difenditi dallo stress ossidativo fisico e mentale, con vitamina C, magnesio e zinco taurato, nelle migliori farmacie e parafarmacie, oppure direttamente a casa vostra senza alcun costo aggiuntivo. NovaVis www.einte.it Buon pomeriggio martedì 13 di aprile 2021 ed eccoci al mio primo 60 news di questa nuova settimana, il secondo di questa nuova settimana del 2021 e ho voluto subito dedicarmi alla strettissima attualità. Cioè credo ad un momento storico che sta vivendo il territorio regino, ma credo anche e soprattutto, e capirete adesso ascoltandoci i motivi di questa mia immediata riflessione, principalmente per questo lembo di terra lalofide. Sì, perché ieri è stato questo consiglio metropolitano e è stata approvata all'unanimità in consiglio metropolitano la delibera che istituisce la cabina di regia reggio metropolitana per la gestione dei fondi previsti dalla Recovery Fund. Un'occasione storica, come dice lo stesso sindaco metropolitano, che vediamo subito in questa clip che parte, Giuseppe Valcomatà, un obiettivo strategico che va oltre ogni appartenenza partitica e che chiama a raccolta le migliori energie della classe dirigente nel nostro territorio. Ora capirete subito perché principalmente per questo territorio, perché abbiamo il sindaco di benestare, che è anche neoconsigliere della città metropolitana di Reggio Calabria, che vedo già inquadrato e saluto. Buonasera sindaco. Buonasera a voi e grazie per l'invito. Stavo per attribuirle le deleghe, quindi andremo subito a quella che riguarda questo consiglio, diretta nel senso politiche del lavoro, politiche sociali e welfare, lavori pubblici e coordinamento cabina di regia reggio metropolitana Recovery Plan. Nel futuro del territorio di regia si gioca tutto adesso, ne siamo tutti convinti. Ma prima di andare al tecnicismo, a vedere come sono andate le cose ieri, questa cabina di regia, come sarà costruita, edificata, eccetera, eccetera. Oggi è facile attraverso i social raccogliere gli umori delle persone, capire come la pensa la gente, se concorda, discorda, favorevole, contraria, eccetera, eccetera. Io adesso faccio la domanda a chi fa il gioco delle parti, però è una riflessione sommaria, lei si erga super partes e mi dica se questo secondo tempo sarà veramente fondamentale per il territorio regino, perché il primo tempo, e ne abbiamo già parlato anche con lei sindaco, è stato un po' stentato, questa città metropolitana ha avuto difficoltà anche per il passaggio, trasferimenti di deleghe, risorse e quant'altro, questa prima consigliatura. Adesso c'è questa seconda, un secondo tempo come abbiamo appunto apostrofato il nostro incontro questa sera, che sembra partire col favore della gente, perché vi vede muoverevi, vi vede agire, vi vede presenti sul territorio, vi vede riflettere su temi veramente importanti per il territorio, e non le pappardelle o le tagliatelle di nonna Pina, eccetera, eccetera. E' quello che pensa anche il consigliere, adesso al di là si erga, come dicevo, super partes. Cosa sta accadendo? Come si vive dentro la città metropolitana questo secondo momento? Sì, grazie per questa domanda che iniziamo questa discussione di stasera. Io sono tranquillo, fiducioso, perché io mi sono insediato da poco all'interno del Consiglio metropolitano, però c'è veramente tanta passione e tanta determinazione anche da parte di tutti i miei colleghi, in primis del sindaco Falcomatà. E quindi rispetto alla prima legislatura ritengo che questo secondo tempo metropolitano, anche per l'esperienza che è stata fatta, riuscirà veramente a dare quelle risposte che i nostri territori, i nostri cittadini si aspettano. Io vedo che c'è questa immersione di tendenza. Al di là del mio ruolo, che ovviamente io sono consigliere metropolitano, però sono consigliere della provincia e quindi so benissimo che la provincia, soprattutto nei primi cinque anni, è stata un po' accantonata. E anche il sindaco stesso, il sindaco Giuseppe Falcomatà, è consapevole che c'è bisogno di una maggiore attenzione da rivolgere alla provincia, proprio perché è importante che i cittadini si sentano veramente cittadini metropolitani. Questo sentimento nei primi anni non è avvenuto. La presenza costante di tutta la struttura della città metropolitana, in primis del sindaco, in provincia, è già una dimostrazione nei fatti che c'è questo cambiamento, questa inversione di tendenza. Basti pensare che nel giro di un mese e mezzo il sindaco Falcomatà è già la quinta volta che viene nella Loppide. E approfitto di questa trasmissione per anticipare a tutti i telespettatori che questo venerdì tutta la struttura, ci sarà oltre al sindaco Falcomatà, addirittura anche il direttore generale della provincia, verranno nuovamente qui nella Loppide a fare dei sopralluoghi sui territori. Quindi sono veramente fiducioso e sono veramente contento del mio ruolo e delle deleghe importanti che poi tra poco ne andremo un attimo a discutere, soprattutto della pagina storica che è stata scritta ieri con questa delibera dove è stata istituzionalizzata questa cabina di regia fondamentale, strategica per il nostro territorio, come questa che abbiamo chiamato cabina di regia Reggio Metropolitana Reconi. Ecco, ci ha dato questa importante notizia, a distanza di pochi giorni ancora il vertice della città metropolitana presente in questo territorio sta a certificare le attenzioni che dicevamo probabilmente non sono state nella prima consigliatura, quella illustre e sconosciuta. Noi spesso appellavamo la città metropolitana, pochissimo presente qui in periferia. Senta, prima di chiedere sull'importanza di questa cabina di regia, posso affermare che quando si è trattato di trasferimenti di risorse di qualsiasi ente statale europeo o altre, siamo sempre stati un po' ciechi, un po' sordi come politici, cioè ci è stata iniettata dall'alto questa iniezione di risorse, però senza nessuna consapevolezza e nessuna attenzione. La cabina di regia servirà soprattutto a questo, a stare attenti a che le cose avvengono nella legalità, ma quello senz'altro avverrà nella legalità, ma anche nelle giuste proporzioni. Sì, noi abbiamo voluto fare proprio questa cabina di regia che ci tengo anche a puntualizzare, che abbiamo settimana scorsa fatto una conferenza con i capigruppo e questa cabina di regia ha ottenuto l'unanimità dell'intero Consiglio metropolitano, quindi l'intero Consiglio metropolitano ha votato favorevolmente a questa istituzionalizzazione di questa cabina di regia. Ecco, come dicevi tu, giustamente, io l'ho detto anche ieri nel mio intervento in Consiglio, era necessario far nascere questa cabina di regia perché ritengo che il Sud in generale, ma soprattutto il nostro territorio, la nostra terra, la Calabria, ha avuto negli anni tre grosse difficoltà. sono, e io lo ripeto anche qui stasera qui con voi, e per me sono la governance, la capacità amministrativa e poi la sinergia con altri fondi. E questa cabina di regia avrà proprio il compito di superare queste tre difficoltà che abbiamo avuto in tutti questi anni. come governance appunto quello di riuscire ad acquisire un ruolo centrale da parte del governo centrale e quindi nel rispetto ovviamente degli indirizzi centrali e strategici che ci verranno dati, noi vogliamo comunque avere una governance, quindi un ruolo centrale nel decidere quali strategie, quali infrastrutture, quali servizi dobbiamo puntare, perché riteniamo che noi siamo qui, che viviamo il territorio, conosciamo il territorio e quindi è necessario che ci dia lo spazio ai territori, quindi alle regioni, alle città mesiopolitane, agli stessi comuni. E su questo dobbiamo fare attenzione, perché c'è poca chiarezza in questo momento da parte del governo centrale, perché noi attraverso questo strumento, questa scomposizione di queste cabine di regia cercheremo di dare un maggior impulso alla nostra azione politica ed amministrativa, perché ci sono una serie di preoccupazioni che poi più tardi dirò in merito a questi fondi europei che saranno a breve destinati all'Italia. E poi ecco, oltre alla governance c'è il discorso della capacità amministrativa. Questa rappresenta, credetemi, una sfida da non sottovalutare, perché per quanto riguarda la capacità amministrativa in questi ultimi anni noi abbiamo avuto attraverso i fondi strutturali sia a livello centrale che a livello regionale, abbiamo avuto la possibilità di evidenziare le persistenti carenze in termini di capacità amministrativa della pubblica amministrazione. E quindi attraverso questa cabina di regia dove ci sarà la formazione di una segreteria tecnica, composta da tecnici di alto profilo, andremo a dotare la pubblica amministrazione di nuove competenze che andranno in un certo qual modo a mitigare quell'eccessivo affidamento a questi servizi esterni. Ma noi attraverso questa cabina di regia andremo a individuare delle nostre professionalità, delle nostre eccellenze che abbiamo sul territorio regionale che ci consentiranno di appunto portare avanti in maniera sinergica quali sono i nostri obiettivi e le nostre sinergie. E poi infine questa cabina di regia avrà in un ruolo quello di una sinergia con altri fondi. Mi spiego meglio. E cioè dobbiamo far capire che il recovery fund non deve essere un discorso addizionale al nuovo ciclo di programmazione che ci sarà 2021-2027. E quindi dobbiamo evitare la sovrapposizione e quindi assicurare che questi soldi del recovery siano veramente un discorso di complementarietà rispetto agli altri fondi europei come penso ad esempio ai piani per il Sud che sono altri 140 miliardi di Euro che stanno per arrivare. Come spesso è accaduto fino al momento perché spesso si è parlato di fondi, di quote di riserva per il Sud però comprendendo insomma più risorse da più parti, da più progetti. Invece in questa fase bisogna fare un netto distingo. Quello che compete per il recovery fund, recovery fund. Altre cose per altre ragioni. A proposito di quote di riserva sarà ovviamente un impegno arduo per questa cabina di regia per i tecnici che ne faranno parte, ovviamente saranno tutte persone altamente qualificate. Il fatto storico è inutile rimarcarlo perché è la prima volta che sentiamo parlare di una vera e propria cabina di regia che monitori, che stia attenta che queste quote di riserva giungano e tutte nel territorio. Sarà un'impresa ardua perché al momento per il mezzogiorno è previsto solo il 34%, come dire che partiamo col piede sbagliato. Anche su questo aspetto devo mettere in evidenza che ieri questa tematica è stata affrontata dal sottoscritto, dal sindaco, ma da tantissimi miei colleghi consiglieri metropolitani. Questa sarà una battaglia che noi avvieremo subito in questi giorni perché non riteniamo assolutamente congrua questa cifra del 34%. Basti pensare che da nostri fonti romane ci riferiscono che all'interno di questo 34% ci sono anche i fondi strutturali, quindi sarebbe anche un 34% fittizio, ma noi andremo ovviamente a ribadire con forza che questi soldi che la comunità europea ha destinato all'Italia, uno dei parametri che hanno poi quantificato questi soldi erano quelli di ridurre il divaro, il gap infrastrutturale che vi è tra il nord e il sud del paese. La nostra proposta è quella invece che come fondi per quanto riguarda il centro-sud d'Italia proprio per rispettare uno di questi parametri che ci ha imposto la comunità europea è quello che non solo il 34% non va bene assolutamente, ma dobbiamo quantomeno arrivare al 60% di questi fondi, proprio per poter pareggiare sia da un punto di vista infrastrutturale, ma anche io ripeto, oltre alle infrastrutture, purtroppo qui da noi ci sono una serie di servizi essenziali che sono carenti e quindi su tanti punti di vista dobbiamo assolutamente avere più fondi, più risorse proprio per riuscire a rispettare uno dei parametri che la comunità europea ha stabilito perché si possono spendere questi fondi, fondi che vi ripeto, perché abbiamo fatto la cabina di regia? Perché ci sono delle scadenze perentorie, anche su questo dobbiamo fare una battaglia perché non lo so se riusciremo veramente a rispettare queste scadenze e ricordo a chi ci segue da casa che se non arriva una proroga entro il 30 aprile, quindi entro nemmeno fra 15 giorni, il governo centrale dovrà trasmettere a Bruxelles, quindi alla comunità europea il nostro piano sul recovery, quindi siamo veramente con i giorni contati, oltre a questo ricordo che il 70% di queste risorse che l'Europa trasferirà all'Italia dovranno essere spese entro il 2022, capite bene che i tempi sono strettissimi e comunque la rendicontazione di tutte le spese dovrà avvenire entro e non oltre il 2026, quindi capite bene che non è facile riuscire a spendere tutti questi soldi in così poco tempo, quindi veramente ci sarà un grande lavoro da fare, però chiediamo una maggiore sinergia e soprattutto abbiamo chiesto al governo centrale di poter dare risorse umane, perché la nostra difficoltà è appunto come ho detto prima, una delle tre difficoltà è quella della capacità amministrativa, l'amministrativa significa avere risorse umane che ci consentano di fare progettualità che ci permetteranno di recepire e quindi di ottenere tutti questi soldi. Ecco, il fatto dei tempi avvalora la tesi del duro impegno che ha questa cabina di regia che deve fare tutto molto in fretta, però è una grande opportunità e proprio per quello e anche perché poi tutto quello che verrà messo a frutto verrà messo a frutto nel giro di pochi mesi, anche questa è una buona notizia, potrebbe essere una buona notizia per il territorio se si riuscirà ovviamente a ottimizzare il tutto. Prima di entrare nello specifico e di vedere poi queste risorse come andrebbero ripartite, ecco sul piano insomma programmatico dove ne bisognerebbe investire, dove si intende più di ogni altra parte investire. Ecco, le volevo chiedere questo, adesso un po' svesta i panni da garante dell'intero territorio regino e torni alle affermazioni che faceva prima ancora di avere questa delega da parte di Falco Matà. Lei ha più volte sostenuto che la Locride è cruciale per la ripartenza del territorio, vogliamo tornare a quell'affermazione? Ci dice anche le ragioni per cui afferma ciò? Sì, lo affermo e lo ribadisco perché è questo, ringrazio comunque il sindaco per comunità che mi ha attribuito delle deleghe così importanti proprio ad un rappresentante e sono orgoglioso di esserlo della Locride perché appunto ricordo che oltre ad essere come delegato il coordinatore di questa importantissima cabina di regia sul recovery plan, io ho la delega ai lavori pubblici oltre alle politiche sociali e alle attività produttive. Quindi ho veramente tante deleghe, ma deleghe importanti e significative e il mio obiettivo è quello appunto di far uscire dall'isolamento la nostra Locride perché non può esistere una città metropolitana senza della Locride e attualmente, dobbiamo dirci le cose come stanno, la Locride perché non fa parte della città metropolitana perché capite bene che un cittadino di Monestalage, di Stignano ma anche di Bovalino non si può mai considerare un cittadino metropolitano quando ci mette un'ora e mezza a raggiungere il centro capoluogo. È ovvio, è logico che tutto ciò non è assolutamente fattibile e quindi il nostro obiettivo sarà proprio in questo secondo tempo metropolitano di investire maggiormente su quei comprensori che sono rimasti più indietro rispetto agli altri e permettetemi che tra i comprensori che sono rimasti più indietro c'è sicuramente la Locride e a tal proposito voglio ricordare e questo da una parte non voglio fare adesso un po' di polemiche però per una questione di correttezza politica e istituzionale ci tengo a ribadirlo anche qui, vedete c'è stato uno sgarbo istituzionale stamattina perché noi come ho già detto all'inizio di questa intervista come città metropolitana ci sarà il sindaco, il direttore generale, il vice sindaco ci si muoverà tutto il consiglio metropolitano verrà nuovamente ancora una volta venerdì nella Locride andremo a Placani, Castigliano, nella Valla del Torbido, faremo un giro e tanti sopralluoghi in questo venerdì ma lo sgarbo istituzionale che si è verificato è che nonostante la città metropolitana finalmente si sta muovendo e sta con un forte dinamismo e quindi ha chiesto al governo e alla regione di non dimenticarsi della Locride e quindi della Statale 106 perché un'infrastruttura come la Statale 106, l'ammodernamento della 106 è fondamentale perché appunto un cittadino di Monasterace riesca a raggiungere il centro capoluogo in un tempo accettabile e cosa succede? che venerdì viene all'Ocri il vice ministro Morelli all'infrastruttura e invita la regione, invita l'ANAS, parlano della Statale 106 e non invitano la città metropolitana, città metropolitana che ricorderete dieci giorni fa ha fatto una presa di posizione molto importante su mia proposta ha fatto una delibera di giunta dove ha inviato proprio al ministero di Morelli quindi al ministero delle infrastrutture, alla regione, all'ANAS la richiesta di inserire tra i recovery l'ammodernamento della Statale 106 visto che attualmente non vi è traccia, loro cosa fanno? Decidono comunque di venire, di fare questa passeggiata elettorale di campagna elettorale questo venerdì all'Ocri senza invitare la città metropolitana dove sapete bene che comunque la competenza su questa Statale 106 è della città metropolitana, quindi un grave sgarpo istituzionale è stato fatto e noi poco fa abbiamo fatto una dichiarazione e l'abbiamo inviato a tutti gli ordini di stampa come consiglieri di maggioranza della città metropolitana dove abbiamo ovviamente espresso la nostra perplessità e la nostra delusione da parte del Vice Ministro che non ha avuto il garbo di invitarci per discutere di questo modernamento della Statale 106. Detto ciò noi al di là dello sgarbo siamo comunque felici della loro presenza, speriamo che venerdì quando verranno non faranno solo una passerella elettorale ma diranno concretamente che cosa vogliono fare perché noi nella nostra delibera abbiamo fatto delle proposte concrete e cioè abbiamo recepito la comunicazione che è arrivata dal Commissario Oliver Sina che è il Commissario del Dipartimento Infrastrutture della Comunità Europea dove ha detto chiaramente che la Statale 106 Ionica non può essere finanziata con i soldi del recovery perché con i soldi del recovery si può finanziare solo e esclusivamente la rete stradale che è cosiddetta TEN-T e quindi noi nella concretezza che cosa abbiamo chiesto al Governo centrale, alla Regione e all'ANAS? Di spostare quasi 2 miliardi di Euro che sono stati stanziati con il bilancio statale della Calabria Albre, c'è la zona di Simpari per l'ammodernamento della Statale 106 Ionica. Questi soldi spostiamoli sulla 106 Ionica quindi finanziamo l'ammodernamento della Statale 106 Ionica e quindi del Megalotto 5 che sarebbe da Reggio Calabria a Melito Portosalvo e il Megalotto 10 che va a Melito Portosalvo a Sant'Ilario Ionico, a Sant'Ilario dello Ionio e poi l'ultimo tratto per arrivare a Monasterace che manca l'ultimo tratto con questi soldi statali, mentre i soldi stanziati sulla Calabria Alta per capirci possono essere finanziati con i recovery perché quel tratto della 106 ricade nella cosiddetta TEN-T quindi abbiamo chiesto nella concretezza della nostra azione politica facciamo questo, facciamo cose concrete. Speriamo che questo venerdì il Vice Ministro abbia recepito la nostra delibera che non solo la città metropolitana ha adottato ma tanti comuni della nostra provincia stanno in questi giorni adottando proprio per dare un maggiore impulso a questa nostra azione politica, quindi stiamo a vedere quello che succederà. Quindi ha manifestato, ha detto chiaramente che comunque le idee ci sono, i progetti ci sono, poi i fondi pure si possono trovare, ci sono delle buone intenzioni per mettere mano un po' ovunque. GAF o sgarbo che sia, lo diciamo con ironia, è un nuovo governo, probabilmente non conosce il territorio ma lo si farà conoscere meglio anche con questi schiaffetti che si danno, questi ammonimenti che si danno, queste lettere che si rendono pubbliche e ben vengano. Senta, a proposito di ironia, la usiamo anche per questi temi comunque importanti, cruciali quali la viabilità. Lei mi parlava della 106, la 106 che ci preme tantissimo insomma a che venga rivalutata, rammodernata, perché io credo che tutti noi abbiamo perso un amico vicino, lontano, troppe morti abbiamo pianto su questa 106, quindi la vogliamo vedere insomma rifatta, rimodulata, ricostruita, riordinata, etc. Ecco, mi viene da sorridere quando penso, per quanto riguarda la viabilità e le percorrenze e per fare in modo che si giunga a Reggio Calabria e che ci si senta metropolitani, perché si arriva magari prima a Reggio Calabria da Bovalino, da Benestare al Benestare Bagnara, Bovalino-Bagnara. Ecco, fino a qualche tempo fa sorridavamo, quando ci occupavamo di questi tempi, sorridavamo quanto eppure con il ponte sullo stretto e adesso di tanto in tanto sentiamo, risentiamo parlare, però adesso con queste nuove opportunità non ridiamo più tanto come prima, insomma ci può essere anche un'effettiva possibilità che queste cose vengono effettivamente realizzate, ci crediamo e quanto? Diciamoci le cose come stanno, se non ora, quanto? Questo è il tema, se non ce la facciamo adesso, è inutile poi dire fra metà, adesso, noi l'ho detto anche ieri in quella pagina storica che abbiamo scritto in quella sala del Consiglio metropolitano, dove ho detto chiaramente nel mio intervento, le strategie sono già chiare, perché basta leggere lo statuto della nostra città metropolitana, dove io ho detto che nell'articolo 15 a comma 6 del nostro statuto c'è già chiaramente scritto tutto, quindi non c'è tanto da poi dire che facciamo, nello statuto, nell'articolo 15 c'è chiaramente scritto che per il rilancio economico, sociale della città metropolitana si considerano infrastrutture strategiche l'ammodernamento della statale 106, la strada di grande comunicazione Ionio Tirreno, c'è anche scritto, menzionata la trasversale Bovalino Pagnara, c'è scritta, c'è già scritta nel nostro statuto e poi ovviamente l'autostrada del Mediterraneo, quindi l'autostrada, oltre ovviamente al porto in Gioia Tauro e l'alta velocità, quindi queste infrastrutture strategiche sono già scritte, quindi quando viene il Vice Ministro dice, ma noi abbiamo già scritto quello che ci serve per il rilancio del nostro territorio, non vogliamo assistenzialismo, noi vogliamo queste infrastrutture strategiche e poi la città metropolitana, ma io penso che con queste infrastrutture e tutta la regione Calabria che ne giova, noi sapremo assolutamente come da buoni calabresi dimostrare a tutti che e finalmente i nostri giovani non sono costretti ad emigrare, ad andare ai vari nord d'Italia, ma finalmente con queste infrastrutture un giovane avrà la possibilità di decidere, di decidere, non di essere obbligato, di decidere se rimanere nella propria terra d'origine oppure trasferirsi altrove. Purtroppo questa possibilità oggi non c'è, questa alternativa oggi non c'è, i nostri giovani oggi hanno come unica strada quella di lasciare la calabria, attraverso queste infrastrutture la possibilità ci sarà fra 15 anni, fra 10 anni, perché giustamente sappiamo bene che sono delle infrastrutture che non si riescono a realizzare a giro di pochi anni, però è fondamentale mettere le basi adesso, con questi fondi dobbiamo mettere le basi per poter dare una speranza domani alle nuove generazioni. Le nuove generazioni vanno dove c'è la centralità, dove c'è l'economia, dove c'è la possibilità di poter operare per varie professioni meglio o comunque in luoghi dove è facile arrivare. Senta, io credo che abbiamo fatto bene a cominciare dai collegamenti, dalla viabilità, perché se vogliamo parlare di qualsiasi altra cosa, se non si raggiunge bene la calabria e quindi la locride, è ne dovuto restare a parlare qui di migliorie infrastrutturali su altri versanti e quindi è importante che ci sia una buona viabilità. Poi ci mettiamo pure, per quanto riguarda le trasversali, anche la gioiosa Rosarno, sicuramente essendoci opportunità si interverrà pure. Quindi la viabilità come punto di partenza per metterci subito mani. Un'altra grande opportunità è quella di intervenire in quella che è la crisi sanitaria, che qui è anche una fortissima crisi sociale. Sotto questo aspetto quali intenti Mantegna? Sì, anche su questo noi settimana scorsa abbiamo convocato i vertici in città metropolitana perché vogliamo anche noi fare la nostra parte e dare un maggiore impulso a questa campagna di vaccinazione. Qui sinceramente è una situazione davvero difficilissima perché c'è una difficoltà generale, bisogna dirle le cose perché appunto mancano i mancini e già in un territorio come il nostro, fragile, che ha delle difficoltà proprio basilari in campo sanitario, ecco questo approvvigionamento dei vaccini complica, complica ulteriormente tutto perché capite bene che ad esempio il fatto che non ci sono questi vaccini ci sono alcune persone che hanno già fatto la prima dose di vaccino e che fanno le autorità sanitarie e dicono no è meglio non andare ad aumentare i cittadini perché poi rischiamo di non avere i vaccini per coloro che si devono fare la seconda dose e quindi il lavoro viene perso. Siamo arrivati a questa situazione, cioè veramente pazzesco. Adesso sembra che usciamo a potenziare i centri vaccinali e lodevole questa possibilità di allargare anche alle farmacie del territorio, però ho visto poco fa un comunicato dove si mette in discussione anche il vaccino Johnson & Johnson che avrebbe diciamo delle ripercussioni su delle categorie di persone. Purtroppo siamo in una fase delicatissima e la Calabria che già come voi ben sapete ha delle problematiche ataviche sulla sanità e ne risente tantissimo. Ecco noi come sindaci, come autorità sanitarie locali stiamo facendo la nostra parte, veramente ci stiamo sostituendo anche al di là dei nostri ruoli, abbiamo messo a disposizione i nostri locali, abbiamo insieme ai medici di base del territorio, abbiamo cercato di sensibilizzare, di cercare di velocizzare il più possibile, però ci rendiamo conto che mancano tante cose in Calabria, però ritengo che se uno mi dice ma qual è il problema principale della sanità calabresa, secondo me il problema non sono le strutture che ovviamente ci sono delle carenze, però secondo me il problema principale sono le risorse, qui non abbiamo risorse umane, quindi io ribadisco ancora una volta come ho fatto in conferenza dell'ASP, quello di sbloccare questi concorsi, perché altrimenti, ma concorsi bisogna sbloccarli, ma renderli appetibili, perché se voi andate a vedere alcune manifestazioni di interesse, alcuni avvisi, sono addirittura deserte, deserte perché un giovane medico ci pensa due volte prima di andare a lavorare ad esempio all'ospedale di Locri e soprattutto ci pensa due volte, soprattutto quando è una manifestazione di interesse dove c'è un contratto a tempo determinato, perché appunto non si riesce in nessun modo a fare degli avvisi dove si danno delle garanzie e di stabilità a questi giovani professionisti e quindi giustamente questi giovani quando non hanno nemmeno una stabilità lavorativa decidono di andare su altri avvisi pubblici più appetibili che danno una maggiore sicurezza, questo è il problema, perché in realtà gli avvisi qualcuno che è fatto, ma sono deserti, sono deserti perché non sono appetibili. E' vero, dice una cosa giustissima anche perché poi si compra a scatola vuota, se si preferisce magari il concorso al Nord Italia, in una città dove ci sono strutture molto più efficienti, qui magari al di là del tipo di contratto poi magari vai ad operare dove non puoi operare, quindi già anche perché conosciamo gli ambienti, chi fa questi concorsi ovviamente sa, avrà studiato la situazione e chiaramente rimane da subito inoperoso quando c'è appunto da fare qualche domanda, aderire a qualche bando. Io non so se stiamo facendo bene, io sto procedendo con le domande mettendo figurativamente le priorità subito, nel senso dando un ordine anche di priorità, voglio dire abbiamo cominciato la viabilità perché è importante anche raggiungere, muoversi, spostarsi nel territorio, abbiamo parlato di sanità perché se non c'è la sicurezza salutare è possibile poco, altrimenti muoversi nel territorio. Poi un'altra cosa è quello del lavoro, un'altra grande impellenza che ha questo territorio è il lavoro, cioè che la gente appunto rimanga a lavorare qui e che non sia costretta ad emigrare, lei ha anche questa delega politica del lavoro, però anche qui da dove partiamo? Perché bisogna insomma, sì il lavoro manca, creiamo sto lavoro, però dobbiamo creare anche le figure professionali, cioè dobbiamo creare quei percorsi formativi e qualificanti necessari perché insomma si possa lavorare e creare appunto posti di lavoro. Giusto Mantegna? Giustissimo, giustissimo e anche su questo posso, ecco, tra le mie dele che come giustamente hai detto ci sono le politiche del lavoro, anche su questo stiamo cercando di dare, e qui parlo nella mia veste di consigliere metropolitano delegato, una nuova impronta, sapete bene come la provincia, la città metropolitana fa dei corsi di formazione professionale per i cittadini metropolitani, però anche su questo c'è stata una condivisione da parte anche dei consiglieri, su questo diciamo io ho pensato che con tutto il rispetto dei classici e tradizionali corsi che la città metropolitana organizza come quello per l'estetista, per il parrucchiere, per il corso per l'imprenditore agricolo professionale, IAP, è necessario adeguarsi ai tempi moderni e quindi fare anche dei corsi innovativi che vengono richiesti dal mercato del lavoro e quindi anche su questo stiamo, diciamo, predisponendo prima che venga approvato il bilancio dei corsi nuovi andando a vedere quali sono le maggiori richieste che il mercato del lavoro richiede in modo da poter professionalizzare e quindi formare i nostri giovani del territorio e quindi questo è un aspetto. E poi, ritornando sempre al discorso del recovery, che comunque ovviamente è collegato, gli investimenti sono collegati comunque a degli aspetti occupazionali, in convenzione con il Rettore dell'Università di Reggio Calabria abbiamo presentato un progetto dove c'è anche il partenariato della città metropolitana sulla riqualificazione dell'area, dell'immensa area industriale che c'è a Saline Ioniche, dove vi è un progetto dove vogliamo fare anche una collaborazione con quell'importante industria che è, diciamo, un'eccellenza che c'è a Reggio Calabria, che è l'Itaci e quindi si pensa attraverso un investimento economico, quindi con i fondi del recovery, di qualificare tutta quell'area industriale, con un'occupazione, si pensa, di quasi 5 mila persone. Questo è un progetto ambizioso che comunque il Ministro Caffagna ha dato in via di massima un parere positivo e speriamo anche questo progetto di poterlo portare avanti, che quindi ci consentirà attraverso quelle altre opere infrastrutturali che dicevo prima, la possibilità veramente di grandi sbocchi occupazionali, perché al di là della realizzazione di questo progetto, noi sappiamo benissimo che le nostre risorse, le nostre bellezze si basano soprattutto sul turismo, sulla agricoltura e quindi la possibilità di sfruttare tutti questi fondi ci consentirà di togliere l'isolamento, tutte queste nostre aree, tutti questi nostri comprensori e quindi la possibilità di poter sfruttare le nostre materie prime, penso al Bergamotto, ma è inutile adesso menzionarle tutte perché sappiamo benissimo che noi abbiamo, sia per quanto riguarda le botture, ma io penso anche ai porchi, abbiamo dei porchi sensazionali, ricordo che è da qualche giorno che Tropea è stato, che comunque è in provincia di Vipo, quindi meno male siamo a pochi chilometri da Tropea, è stato riconosciuto come il più bello porgo d'Italia, ma abbiamo dei porchi anche non solo qui nella Locke, ma penso ai porchi dell'area grecana, quindi siamo veramente una terra bellissima che però deve essere assolutamente, è giunto veramente il momento che questa nostra spettacolare terra sia valorizzata per quella che è e non venga etichettata solo per storie di criminalità organizzate, perché noi siamo stufi, purtroppo sappiamo che esiste, purtroppo l'andrangheta è forte ancora l'andrangheta in Calabria e nella Locke del Particolare, ma siamo più forti noi, le persone per bene, serie, che hanno deciso di rimanere a vivere in questo nostro lembo di territorio e vogliamo vivere e viverci bene, viverci bene però. Il tempo è quasi finito Mantegna, anche perché poi vorrò chiudere con una decina di minuti con la sintesi del consiglio importante di ieri per l'appunto, ma non perché mi ha citato Borgo, il Borgo dei Borghi Tropea, ma perché di Borghi noi ne abbiamo in provincia di Reggio Calabria straordinaria, perché se mettiamo da parte la Reggio Calabria e poi Melito, Siderno, Locri, Taurianova, Città Nova, Palmi, Gioia Tauro, Rosarno, si tratta soprattutto di piccoli borghi che adesso vedremo di che cosa necessitano, perché io adesso devo in conclusione scegliermi almeno un argomento, ma uno soltanto tra i mille che ancora avremmo potuto trattare questa sera su dove si può intervenire. Dunque, intanto pensavo a questo a proposito del lavoro, perché noi poi ci inventiamo tante cose, ognuno di noi dice la qualunque, abbiamo mille idee, ognuno di noi, però bastano alle volte, in maniera semplicistica lo dico ovviamente, bastano poche idee, ma di cose importanti che possono far fruttare decine e decine, centinaia di posti di lavoro, ad esempio il Ponte sullo Stretto, ad esempio il Porto di Gioia Tauro, ad esempio una nuova zona industriale rimodulata a Saline, dove si pensa ovviamente a impiegare centinaia di persone, poi ovviamente questi siamo e chiaramente andremo in maniera diretta a risolvere il problema che abbiamo del lavoro, perché quando tu riesci a impiegare buona parte di questi giovani, poi insomma il problema è quasi risolto del tutto e quindi poi possiamo farci vedere l'idea che vogliamo anche per dare ulteriori stimoli ai nostri ragazzi. Per quanto riguarda i borghi, anche qui abbiamo parlato di viabilità, quindi per farli raggiungere meglio, ma vogliamo un po' cambiare l'identità di questi borghi, perché ognuno, poi tra l'altro anche lei è di benestare, quindi quale migliore esempio? Poi di recente ci siamo anche occupati per le eccellenze, tante benestare, ma tanti altri centri hanno le loro eccellenze, tutte le hanno. Ecco, com'è possibile ribaltare, rivoltare il calzino? È possibile, l'abbiamo detto mille volte, ma adesso concretamente, perché ci sono le opportunità anche in questo senso, per ribaltare il destino di queste piccole comunità, piccoli borghi, e farli magari diventare centri attrattivi dal punto di vista turistico, ecco, è possibile? E questo cammino è così, insomma, irto di insidie come è sembrato essere fino adesso, o è possibile, insomma, che la cosa, insomma, possa essere risolta anche facilmente? Come cambiare il volto dei borghi della provincia di Reggio Calabria? Ma ecco, io non dico che è un qualcosa di difficile, ma non è neppure facilissimo, perché purtroppo anche all'interno dei nostri borghi abbiamo anche delle difficoltà da un punto di vista urbanistico, e su questo ecco, io mi allaccio anche alla Regione Puglia, dove la Regione Puglia ha adottato una legge regionale che va a disciplinare i borghi, e quindi lì ha un caso poi particolare come albero bello, però ecco, io sulla falsa riga della Regione Puglia era necessario che la Regione Calabria, che comunque si è mossa in questi anni nella valorizzazione dei nostri bellissimi borghi che abbiamo dappertutto qui in Calabria e la Lopede soprattutto ne è piena, infatti ha stanziato quasi 20 milioni, no, 20, quasi 100 milioni di Euro la Regione Calabria per la valorizzazione dei borghi del nostro territorio, tra cui sono contento che anche il benestare è risultato beneficiario di questo investimento per un milione e mezzo di Euro, però ritengo che oltre all'investimento economico necessario è anche opportuno che ci sia una riqualificazione urbana e quindi perché noi sappiamo benissimo che da un punto di vista urbanistico ci sono delle difficoltà di decoro urbano all'interno dei nostri borghi perché negli anni 40 e negli anni 50 si è costruito in violazione di qualsiasi legge urbanistica, quindi abbiamo ereditato una situazione non bella e quindi dobbiamo disciplinare con una legge che vada a regolamentare alcune questioni amministrative tecniche all'interno dei nostri borghi, proprio per consentire a tanti cittadini che hanno intenzione di ritornare nei nostri centri storici di investire, perché con le norme attuali capite bene che tanti giovani, tanti imprenditori non se la sentono di investire all'interno di questi centri storici, di questi borghi che attualmente non vi dico che sono abbandonati, però giustamente tanta gente si è trasferita e quindi per ritornare a ripopolare questi borghi, oltre agli impegni economici che ci sono stati e ci saranno ancora, è importuno ripeto che ci sia una legislazione che regolamenta meglio la possibilità di poter da parte degli imprenditori o di semplici cittadini privati di andare a riqualificare questi fabbricati che ci sono nei centri storici. Poi per quanto riguarda i giovani, io lo ripeto ancora, noi dobbiamo ovviamente investire sui nostri gioi perché rappresentano il futuro, pensate che un dato che l'ha fornito la società Svimez ha detto che fra 20 anni il sud d'Italia perderà in queste condizioni ben 5 milioni di abitanti, 5 milioni di abitanti sono tantissimi, quindi assolutamente Pino io ribadisco che dobbiamo veramente ognuno di noi fare la propria parte e prendere coscienza che questo è un treno che sta passando adesso e dobbiamo assolutamente cogliere perché fra 20 anni i nostri bordi, i nostri, soprattutto i paesi dell'entroterra calabrese se non cogliamo questa opportunità che ci viene data oggi assolutamente saranno abbandonati, svuotati, non ci saranno più e quindi ecco da questa guerra che mi auguro che quanto prima ne usciremo fuori, quindi da questa emergenza sanitaria, questa emergenza che adesso è diventata un'emergenza sociale, è opportuno andare a cogliere gli aspetti positivi e cioè il rilancio economico che comunque da questa guerra possiamo avere, soprattutto noi calabrese. Sindaco, devo chiudere, mi presta il termine guerra perché mi serve per le conclusioni, intanto noi abbiamo da vincere, a proposito della svimez, di quello che pensa tra 20 anni, probabilmente il recovery potrà fare, invertire questa tesi, potrà essere un buon espediente perché questo non avvenga tra 20 anni, ci sia questa diaspora, no dicevo guerra perché noi abbiamo adesso in tempi ristretti da vincere, grazie al buon utilizzo di questi fondi, tantissime battaglie, però credo che la vittoria mi dica un po' se questa è la conclusione più giusta a dare questo nostro incontro questa sera a Sindaco, la guerra da vincere è di colmare questo gap tra Nord e Sud, perché se noi la perdiamo questa guerra, si ingigantisce questo gap che attualmente c'è ed è notevole tra Nord e Sud, quindi se non riusciamo a fare 0 a 0, o meglio 1 a 1, a pareggiare le cose, diciamo che così, in quella maniera avremmo vinto la guerra, ecco che questa grande opportunità delle recovery ci fornisce. Sono assolutamente convinto, questo sarà la madre di tutte le guerre, aggiungo io, perché su questo io anch'io da Sindaco ho firmato un appello dove ci siamo 500 sindaci, ma devo ammettere che c'è un senso di appartenenza e un senso di ribellione veramente da parte di tanti miei colleghi, questa volta non ci faremo sfuggire questa opportunità e chiederemo fino alla fine con forza al governo centrale, quindi ai tavoli romani di rispettare quali sono le direttive europee. L'Europa ha chiesto in maniera chiara e limpida che questi investimenti devono essere degli investimenti che diano una svolta ecologica, che diano una svolta di inclusione sociale e poi ovviamente che questi investimenti vadano a ridurre il divario esistente purtroppo tra il nord e il sud del nostro paese. Grazie Sindaco, come dicevo, perfetto dove concludere, non posso manco mandare la sintesi del Consiglio Metropolitano di ieri, ma lo vedremo questo servizio tra poco nel Tg che sta per partire. Grazie Sindaco, grazie preziosissimo, buonasera. Grazie, grazie ancora a voi, buona serata e a presto. E a domani con 60 news, grazie e buona serata. Il Covid ci ha messo in grande difficoltà, ma nonostante le restrizioni siamo qui con l'entusiasmo di sempre per presentarvi la nuova collezione autunno-inverno, nei nostri ampi locali perfettamente sanificati, ambienti ed abiti con la luce ultravioletta, Rita Severino abbigliamento, Via Tenente Carella, Rocella Ionica, veste ancora l'uomo e la donna, dal casual al classico, con i nostri brand che hanno da sempre contraddistinto la nostra storia, Levis, Trussardi Jeans, Marella, Surcana, Linea 5, Gaia Life, Sanremo, Ingram e tanto altro, Rita Severino abbigliamento, Via Tenente Carella, Rocella Ionica. La storia continua. Da oggi con Reat ADSL puoi collegare la tua cassa telematica e il POS a internet con una tariffa vantaggiosissima. Con soli 5 euro mensili avrai la tua connessione alla rete. Chiama subito per maggiori informazioni al numero 0964-8289 oppure alla 338-2278-144. Reat ADSL L'applicazione Immuni segnala eventuali contatti con persone positive al Covid-19. In questo modo aiuta ad evitare la diffusione di nuovi focolai. Immuni rispetta la privacy perché usa un sistema di tracciamento totalmente anonimo. L'app non registra nessun dato che permetta di risalire all'identità di chi le usa. Circa Immuni su App Store o Google Play e scaricala subito. Scarica Immuni. Aiuta te stesso, la tua famiglia e il tuo paese.